A distanza di oltre tre settimane dagli ultimi episodi di violenza all'ospedale Santo Spirito di Pescara, nonostante le promesse e le rassicurazioni della ASL, nulla è cambiato. A denunciarlo è l'UGL con Fabio Urbini che torna a sollecitare l'incontro, più volte richiesto, per verificare la situazione a cui quotidianamente il personale in servizio, gli utenti e il personale sanitario sono esposti per la mancanza di vigilanza, anche alla luce dell'imminente G7 che trasformerà il presidio sanitario pescarese in un luogo sensibile in caso di necessità. A distanza di tre settimane non è che sono finite le aggressioni, le aggressioni purtroppo sono all'ordine del giorno così come i casi più o meno gravi a seconda delle situazioni, quella è stata la punta di quello che succede quotidianamente, anche la settimana scorsa i colleghi si sono trovati a dover fronteggiare due situazioni contemporaneamente nel nosocomio e si sono dovuti organizzare per spostarsi contemporaneamente su due punti diversi e due persone per gestire un ospedale intero sono poche. Sicuramente l'arrivo del G7, l'ospedale è già sensibile, l'arrivo del G7 andrà a amplificare questa situazione, quindi a distanza di settimane dove tutti hanno fatto, sono stati bravi sui giornali dall'assessorato della sanità, la ASDA a dire che avrebbero aumentato, avrebbero fatto, però ad oggi noi non abbiamo visto alcun miglioramento e anzi le situazioni continuano a peggiorare perché c'è stata una riduzione dell'aliquota del portierato, quindi anche nel pronto soccorso si è arrivati con la decrescita graduale del personale, non c'è più gestione, ormai è tutto allo sbando per quanto riguarda l'ospedale di Pescara. Se non dovessero darvi ascolto cosa farete? Sicuramente valuteremo altre attività come lo sciopero, come delle proteste, noi abbiamo semplicemente chiesto per l'ennesima volta un tavolo che non ci viene dato da parte delle istituzioni, della ASDA e dell'assessorato della sanità proprio per vedere, ma d'altra parte sono stati loro che davanti ai giornali, davanti all'opinione pubblica hanno detto che necessitava, rendendosi conto che necessitava un aumento del personale, vogliamo chiedere solamente che vengano mantenute le promesse, ovvero che a distanza di tre settimane l'ASDA in settimana ci dia quello che è il fabbisogno nuovo che ritiene di dover inserire nell'ospedale per poter salvaguardare l'operatività del servizio, ma anche la sicurezza degli operatori sanitari, del pubblico e degli operatori di vigilanza stesso che operano nell'ospedale.